Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Traffico al momento regolare sulla rete autostradale regionale. Possibili disagi per presenza di personale su strada per lavori in A11 tra Lucca Est e il BV A11 raccordo A12. In Fipili segnaliamo veicolo fermo o in avarietra interporto Toscano Est e interporto Toscano Ovest per chi viaggia verso Livorno. Possibili disagi. Un sguardo al traffico ferroviario è in risoluzione un guasto a un passaggio a livello tra Brisighella e Faenza che ha generato modifiche alla circolazione. Circolazione ferroviaria che sta ritornando comunque alla normalità. Inoltre salutarci per il traffico urbano di Firenze e possibili disagi per soste irregolari in via degli orti oricellari e via Maso Finiguerra. Moversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie a tutti.